La fine io non la vedo, resto in attesa di un nuovo decreto Una diretta di Conte su Facebook Guardo il telegiornale per sapere cosa ha detto Rinchiuso nella mia house, con la tutina come Achille e Laur Faccio le pulizie, sembro Mercury nel video di I want to break free Passo via la polvere pure negli angoli Non sbrinavo il freezer da diversi secoli E per la prima volta ho fatto il cambio di stagione Prima che di me lo facesse mia moglie Ma se dovessimo spiegare Questo Covid-19 È un complesso meccanismo Che ha rinchiuso in casa tutte le persone Sarò pazzo ma io pur d'uscire Sto insegnando al gatto ad abbaiare Passo le giornate a fare il giardinaggio Svolverare la credenza Sembro diventato una governante in questi giorni d'emergenza